Come on! Come on! Vai! Fai bei sogni. No! Massimo, ora la mamma è il tuo angelo custode. Voglio andare a fare una preghiera per mamma, insieme. Non può essere andata via così senza neanche salutarmi. Mamma! Sono orfano di madre, fin da bambino. Ormai sono più vecchio di lei di cinque anni. Mi fa molta impressione. Hai già avuto altri attacchi di panico? No. Quando vai a trovare la mamma? Enrico mi ha detto che vive a New York. A Natale. La tua bugia è innocua per chi l'ascolta, ma non per te. Si sta male di nuovo. Telefoni una persona che le è vicina. Puoi essere lei questa persona? Telefoni una persona che le è vicina. Telefoni una persona che le è vicina. Telefoni una persona che le è vicina. una madre. Perché non me l'avevi detto? Telefoni una persona che le è vicina. Telefoni una persona che le è vicina. Telefoni una persona che le è vicina.